Perché devi fare queste cose rovinando di fatto la musica di RTL? Ma perché lui è Ezra? Ma perché? Perché questo... E allora ce l'ho messo anch'io, non l'ho avuta che sapevo... Lui è Ezra, tu sei stronza... Allora salutiamo comunque gli amici di Doniella Piloni che stanno andando alla caccia cinghiale con la nostra musica, con il nostro programma, con questa citazione a noi di sabato. Sui RTL 105 cosa ci porta in termini pratici? Due cosciotti di cinghiale e il salamoia. Ho come minimo i barattoli abbastanza grandi di sugo di cinghiale già fatto. Perché non è che possiamo utilizzare la prima radio del mondo per queste finalità? Domanda da sabato, l'avevo fatta alle nostre colleghe. Cioè Instagram sta andando forte.